ragazze sono ritornata con gli spacchettamenti questo è lo spacchettamento stenom perchè per ora ho ripreso a fare la stenom e vi faccio vedere quelli che mi hanno ordinato le mie clienti e quello che ho ricevuto io allora mi hanno ordinato due di questi qui che sono le salviettine anti scolorimento quindi per non far assorbere tutto il colore per non far scambiare i panni nella lavatrice me ne hanno ordinate due queste qui erano in offerta nel catalogo campagna 18 ma vi dico subito a 5,50 no 5,50 poi mi hanno ordinato due sgrassatori questi qua da un litro uno e due gli sgrassatori venivano 9,90 poi dato che io sono rientrata di nuovo in stenom quindi ho dovuto fare di nuovo l'iscrizione ho ricevuto in omaggio il kit bellezza che ora vi mostro allora ragazzi il kit bellezza comprende questi prodotti qua che ora vi mostro lo potrete avere gratis se fate un ordine di 120 euro di minimo 120 euro allora io ho scelto il kit bellezza ma potete scegliere anche questo qua che è il kit per la casa dove c'è lo sgrassatore piccolo, il daily wash, lo spray per i vetri, il bagno schiuma, il gel mani, il deodorante, il contorno occhi, un rossetto e uno smalto invece io ho scelto questo qui allora questo è un fluido struccante quindi un gel detergente poi ho preso il tonico mi hanno mandato il tonico poi una crema anti una crema defi detox aspettate che eccolo qua tutti i tipi di pelle il laboratorio Chiotis ha creato un complesso di oli essenziali che agisce sulla pelle grazie alla doppia azione detossificante e anti smog ci sono gli oli essenziali di cinamosma, arancia e petit grenier l'olio essenziale di geranio e l'olio di yang liang va ad agire come uno scudo grazie alla sua azione anti smog che protegge la pelle dall'aderenza delle azioni delle particelle inquinanti applicare al mattino sul viso e colla evitando il contorno occhi e contiene eucalipto questa qui la voglio tenere per me perché vi voglio fare una recensione poi ho in questo kit c'era anche il quad di ombretti nella colorazione vediamo un po' pink flamingos la 402 poi un mascara questo qui è il è il mascara un po' cicciottoso quindi è il mascara volumizzante della Flormar poi sempre della Flormar una matita marrone per gli occhi queste qua sono curiosa di provarle eccole qui poi una matita per le labbra che ora vi mostro questa qui fucsia che è la numero 220 questa qua marrone ora vi dico un attimo il numero della marrone vediamo un po' c'è ultra brown eyeliner poi c'è il matitone per le labbra di questa colorazione qua il lip crayon nella colorazione vediamo un po' se trovo il nome ecco 09 move ora vi mostro questa colorazione qua molto molto bella è uno smaltino chiaro di questa colorazione qua rosino chiaro 0077 light pink appunto eccolo qua poi mi hanno ordinato uno spray per i vetri che era in offerta ma ve lo dico subito a 6,90 poi c'è un dry spray a secco desodorizzante quindi questo qua per disinfettare per disinfettare a secco che ora vi dico anche questo quanto costa 5,90 poi ho preso un set che poteva prendere diciamo la presentatrice ad un prezzo basso che ora non mi ricordo comunque c'era lo sgrassatore l'aquilan e lo sandwich questo qui nota fico e cocco questo sarà ottimo poi vediamo un po' poi mi è arrivato il catalogo per me di campagna 1 delle busche regalo delle shopper poi vediamo un po' che mi è arrivato più a natale ogni tuo desiderio qui già è passato quindi possiamo anche buttarlo il colorario della flormar che se lo volete vedere lo vediamo insieme in un altro video quindi scrivetemelo sotto poi ho ordinato uno sandwich questo qui alla pera e questo qui veniva 7,50 7,90 non ricordo bene e poi per ultima cosa vi faccio vedere un po' di make-up allora mi hanno ordinato un fondotinta che ora vi mostro sono piena di prodotti ecco qua e mi hanno ordinato questo fondotinta qua perfect coverage foundation 12 ore con spf 15 nella colorazione medium beige e questo qui veniva 12,90 poi mi hanno ordinato un cremone questo qua nella versione da 75 ml a tubetto e veniva 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 5,90 ve lo cerco subito no 5,50 poi mi hanno ordinato un code di ombretti a 7 euro nella colorazione black soufflé poi mi hanno ordinato delle tinte labbra che vi faccio vedere alla fine mi hanno ordinato un mascara questo qui appunto è l'extra sculpting waterproof che è lo stesso che mi hanno inviato a me e poi per finire mi hanno ordinato delle tinte labbra tre delle quali sono mie allora questa che è la claret claret red mi sembra che ne hanno ordinato due si due claret red poi mi hanno ordinato autun timber questa qui seguitemi su instagram dove vi mostro vari swatch di tinte e cose quindi sono aurora monterra 8970 quindi se volete sapere le tinte che ho preso prima che pubblichi il video andate sul mio instagram poi ho preso la dalsy 04 poi mi hanno ordinato la 02 fall rose io ora non mi ricordo quale sono le mie dopo devo andare a controllare e poi mi hanno ordinato la 08 dark violet molto 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 bello poi mi è arrivata anche questa scatola in latta molto bella e casomai farò un pensierino a una cliente vediamo un po' che mi ha speso un bel po' e quindi faccio un pensierino a questa cliente comunque perché questa me l'hanno mandata in regalo comunque questo è il mio ordine io vi saluto e ci vediamo con i prossimi ordini e i prossimi video ciao